Dopo la sperimentazione partita a ottobre 2022 con sei cassonetti intelligenti nel centro storico di Pesaro, nel 2024 il modello con le isole ecologiche informatizzate si allargerà a tutta la ZTL. Del 5 febbraio il centro di Pesaro abbandonerà dunque il sistema di raccolta differenziata porta a porta, aggiungendo altre 17 eco-isole che faranno salire il conto a 23 punti di conferimento di rifiuti. Un investimento di marche multiservizi che aumenterà così da 1000 a 4000 le utenze pesaresi coinvolte. Direi che è un passaggio culturale e innovativo, importante, non solo perché così i cassonetti li chiamiamo intelligenti, quindi sono già dotati di una parte di intelligenza artificiale, ma diciamo che soprattutto è una modalità di raccolta che consente ai cittadini di essere più liberi nei tempi, nei modi e soprattutto anche nei giorni di conferire i loro rifiuti. Effettivamente prima il porta a porta costringeva i cittadini a conferire determinate ore, determinati giorni, quindi diciamo che impegnava la loro qualità della vita. Oggi questo viene del tutto superato e quindi credo sia un passaggio importante anche per la cittadinanza. È un investimento importante perché tra la fase sperimentale e quella attuale, Marche Multiservizi investe circa mezzo milione di euro. Per accedere alle eco-isole gli utenti dovranno munirsi della cosiddetta carta smeraldo che sarà ritirabile dal 18 al 23 gennaio nella sede del quartiere 1 centro storico di via Gavardini 10. Ci sarà un lasso di tempo di coesistenza dei due metodi di raccolta rifiuti, perché le isole ecologiche entreranno in funzione il 22 gennaio, mentre l'ultimo giorno di raccolta porta a porta sarà il 3 di febbraio. Manderemo delle comunicazioni, ci saranno le assemblee come già ci sono state per cercare di comunicare al meglio cosa comporta questa nuova modalità che nella sperimentazione ha dato risultati molto importanti sia dal punto di vista del decoro urbano della città ma anche dal punto di vista della raccolta differenziata. Quindi chiediamo a tutti i cittadini di continuare con questa sensibilità, con questa voglia comunque di conferire in maniera corretta perché ci consenta come azienda e come città di raggiungere gli obiettivi di economia circolare che l'Europa ci impone, cioè quello del recupero della materia. Un invito che c'era stato fatto un po' anche da tutto il Consiglio Comunale di modificare il tipo di raccolta in centro. Sapevamo che poteva essere anche complicato in qualche modo, invece abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte dei cittadini, devo dire che tranne qualche piccola situazione di criticità non hanno mai lasciato i rifiuti fuori dai cassoletti, quindi mi devo complimentare anche con i pesaresi che hanno accolto in maniera favorevole, civile ed educata questo tipo di raccolta. Le difficoltà che abbiamo avuto ovviamente sono sempre quelle relative alla sosta in centro storico, quindi quando andiamo a posizionare dei cassonetti perdiamo alcuni posti auto e anche per quello ci siamo attrazzati nella realizzazione di posti gialli al di fuori della ZTL riservata ai residenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti